Guardate la situazione, non è che c'è bisogno di tanti commenti, di tante parole. Parla da sé, degrado al 100%. Qui non c'è il porta a porta. E chi viene anche di fuori, butta l'immondizia dove capita. Ora se tutti hanno pensato di buttarla qua, proprio sotto casa mia. Prego alla sindaca, a chi di dovere, di mettere i cassonetti. Qui ci vogliono i cassonetti obbligatori. Qui, Bella Piedra, Torremacao, Dallumia, obbligatori. La gente è quella che è, però se non ci date quel minimo di servizio, finisce questo. Ecco, questo bellissimo spettacolo.